6 divertenti barzellette italiane su carabinieri e polizia. Un carabiniere sta imparando l'alfabeto. Il suo collega gli chiede, quanto ti manca per finire? E lui risponde, non lo so, ho perso il conto, ma penso di essere a metà, sono arrivato alla lettera M. Un carabiniere in aeroporto vede un aereo e dice, quello è l'aereo del mio capo. Il collega chiede, come fai a saperlo? E lui risponde, perché quando è partito, ho visto il mio capo salire su quell'aereo. Un carabiniere chiama la centrale e dice, sono circondato. Da cosa? Chiedono dall'altra parte. Da negozi aperti e chiusi, da auto parcheggiate e in movimento, da persone che vanno e vengono. Un carabiniere dice al collega, sai, ho due cani, uno per la guardia e uno per la compagnia. E come fai a distinguerli? Chiede il collega. Facile, quello per la guardia è a casa, quello per la compagnia è con me. Un carabiniere chiede all'altro, che ore sono? E l'altro risponde, le sei. Che coincidenza! Esclama il primo carabiniere, anche a me danno le sei. Un poliziotto ferma un uomo che ha passato con il rosso e gli chiede, non hai visto il semaforo rosso? E l'uomo risponde, certo che l'ho visto, ma non ho visto te.